L'accoglienza dignitosa avviene con le quote, cioè tu un paese non può sopportare più di un tot di accoglienza, se no non è più dignitosa. Il tema dell'Europa e delle quote di accoglienza di un paese rispetto all'altro è un tema fondamentale. Quindi dire quote fisse per l'Italia, oltre questo non possiamo accoglierle, quindi non possiamo più rimandarle indietro, credo che sia una proposta di centrodestra seria e moderata. Ma l'intervento di Minniti e appunto gli sbarchi ridotti nell'ultimo anno e ancora nei primi due mesi di questo, come giudica la sua azione qua e quindi il governo Gentiloni? Devo dire che su questo faccia spezzare anche una lancia a favore della continuità Minniti-Alfano. Io credo che il governo Gentiloni abbia seguito poi la strada che occorreva seguire, che è quella di interventi nella politica estera e nella politica internazionale di dialogo con i paesi del Nord Africa. E Alfano non l'ha fatto? No, ha creato le condizioni per farlo, non è che non l'ha fatto. Adesso non voglio difendere Angelino che è un carissimo amico e si difende da solo. Mi siete anche divisi. No, ma sì, grazie. No, lui si è diviso da se stesso in qualche modo. È evidente che quando in Libia non c'era nessun interlocutore istituzionale politico, tu potevi fare l'accordo allo specchio con te stesso. Nel momento in cui si sono create le condizioni, premessa del precedente governo, perché anche in Libia potessero esserci dei riferimenti istituzionali, è stato più semplice. Comunque Miniti credo che abbia fatto un'ottima azione nella linea che stiamo dicendo. Questo è interessante, però non l'ha fatto troppo facile. Poco di sinistra. Berlusconi. Sarebbe un buon ministro anche per voi, Miniti. No, credo che sia un ottimo ministro del centro-sinistra, non del centro-destra. Ma dico, non la fa troppo facile allora Berlusconi quando parla appunto di respingimenti, visto che non abbiamo accordi con tanti paesi, visto che comunque i costi sono molto alti, visto che l'Europa ancora queste quote non le rispetta in alcun modo, allora sarà un processo lungo. Nel governo 2008-2011, quando gli accordi internazionali si sono fatti e c'erano interlocutori istituzionali, piaccia o non piaccia, si chiamava Gheddafi uno di questi interlocutori, poi venne la primavera araba e qui potremmo aprire una lunga discussione, poi alla fine lo sbarco del fusso di immigrati nel nostro paese si è bloccato. Sì, era un po' un altro mondo. D'accordo, però dice che quella strada è una strada per correre.